Il Monte dei Paschi di Siena, terza banca italiana, approva il suo nuovo piano industriale, non senza grandi sacrifici. L'istituto infatti cede oltre il 60% di Beaver Banca, chiude 400 filiali con una riduzione di oltre 4.600 posti di lavoro. Il piano prevede un utile netto consolidato di 630 milioni di euro.